Benvenuti sul mio canale YouTube dedicato ai viaggi. Sono entusiasta di portarvi in un'avventura attraverso le meraviglie del mondo. In questo video andremo alla scoperta della Tanzania, un safari avventuroso tra le creature del Big Five. Prima tappa, Arusha. Il tuo viaggio alla scoperta della Tanzania inizia nella vivace città di Arusha, un centro nevralgico per gli amanti della natura e gli avventurieri provenienti da tutto il mondo. Questa città, situata ai piedi del Monte Meru, offre un panorama mozzafiato sulla montagna e sui suoi lusoreggianti pendii. Il primo giorno esplora il cuore pulsante di Arusha. Visita il mercato centrale per immergerti nei colori, nei suoni e nei profumi locali. Da frutta e verdura fresche, spezie e tessuti colorati, alla vivace atmosfera, questo mercato è un vero assaggio della cultura tanzaniana. Successivamente fai un salto al Museo Culturale d'Arusha. Qui avrai l'opportunità di apprendere la ricca storia e cultura della Tanzania con esposizioni che spaziano dall'arte alla storia naturale. Il museo ospita una vasta collezione di artefatti etnografici di oltre 120 tribù tanzaniane. In serata assapora la cucina locale in uno dei molti ristoranti di Arusha. Il ristorante Khan's Barbecue è una scelta popolare, noto per i suoi succulenti spiedini alla griglia e le insalate fresche. Arusha, con la sua vitalità e cultura ricca, offre il perfetto punto di partenza per il tuo safari avventuroso in Tanzania, preparandoti per le meraviglie naturali che ti aspettano. Seconda tappa, Parco Nazionale del Serengeti. Dopo aver esplorato Arusha, mettiti in viaggio verso il leggendario Parco Nazionale del Serengeti. Questo parco, il più antico e popolare della Tanzania, offre uno dei panorami più iconici dell'Africa, con le sue distese di savana punteggiate di acace e ricche di fauna selvatica. Nel Serengeti avrai l'opportunità di vivere uno dei fenomeni più spettacolari del mondo naturale, la migrazione in annuale di milioni di gnu e zebre. Osserva questi animali mentre attraversano fiumi infestati di coccodrilli e praterie popolate da predatori in un affascinante ciclo di vita e morte. Oltre alla migrazione, il Serengeti è famoso per la sua abbondanza di grandi predatori. Questo parco offre alcune delle migliori occasioni per avvistare i membri del Big Five, i leoni spesso visti mentre riposano tra le rocce o cacciano in branco, i leopardi, maestri del mimetismo, gli elefanti africani, i più grandi mammiferi terrestri, i bufali, conosciuti per la loro imponente mole e il loro comportamento imprevedibile, e i rinoceronti, un raro e prezioso avvistamento. Durante il tuo soggiorno nel Serengeti potrai godere di un autentico safari in tenda, immerso nella natura selvaggia, avrai l'opportunità di ascoltare i suoni della savana sotto un cielo stellato. Tra i vari campi disponibili, il Serengeti Serena Safari Lodge offre una combinazione di comfort e posizione strategica per l'avvistamento della fauna. La visita al Parco Nazionale del Serengeti è un'esperienza indimenticabile che ti permette di avvicinarti alla natura in tutto il suo splendore e alla sua fauna affascinante e variegata. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video. Terza tappa, area di conservazione del Ngorongoro. Dopo l'immersione nelle distese infinite del Serengeti, prosegui il tuo safari verso l'area di conservazione del Ngorongoro. Questa regione unica, classificata come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, è famosa per la caldera del Ngorongoro, il più grande cratere vulcanico non allagato e intatto del mondo. La caldera è un vero e proprio Eden di biodiversità che ospita oltre 25.000 grandi animali, tra cui zebre, gnu, gazelle, leoni, elefanti, rinoceronti e un gran numero di uccelli. In particolare, Ngorongoro è uno dei pochi luoghi in Africa dove è possibile avvistare i rinoceronti neri, specie gravemente minacciata. Durante la tua visita, esplora il fondo della caldera in un game drive, dove potrai avvistare la fauna selvatica a stretto contatto. Assicurati di avere la fotocamera a portata di mano, poiché le opportunità di fare foto impressionanti sono infinite. Per pranzo, organizza un picnic sulle rive del lago Magadi, un lago alcalino nel cuore della caldera, popolato da migliaia di fenicotteri rosa. Alla fine della giornata, goditi una notte in uno dei lodge panoramici sull'orlo della caldera. Il Ngorongoro, Serena Safari Lodge, offre vista e mozzafiato e un'accoglienza calorosa. Questa tappa del tuo safari in Tanzania è un vero trionfo della natura che ti permette di ammirare da vicino l'incredibile diversità della vita selvatica africana. Quarta tappa, Parco Nazionale del Tarangire. L'ultima tappa del tuo emozionante safari in Tanzania è il Parco Nazionale del Tarangire, un gioiello nascosto che offre un'esperienza unica di safari. Questo parco, situato a poche ore di distanza da Russia, è noto per le sue mandrie di elefanti e le imponenti baobab che punteggiano il paesaggio. Arrivando al parco, ti accoglierà un paesaggio di straordinaria bellezza. Il fiume Tarangire, che dà il nome al parco, serpeggia attraverso colline di acace e baobab. Durante la stagione secca, il fiume attrae una miriade di animali selvatici, rendendo il Tarangire uno dei migliori luoghi della Tanzania per avvistare la fauna. La star indiscussa del parco è l'elefante africano. Le mandrie di elefanti del Tarangire sono tra le più grandi in Africa e osservarli mentre si muovono maestosamente attraverso la savana sarà un'esperienza indimenticabile. Ma il Tarangire non è solo casa degli elefanti. Con un po' di fortuna potresti avvistare anche leoni, ghepardi, bufari, oltre a una varietà di antilopi e oltre 500 specie di uccelli. Per un'esperienza culinaria nel cuore del Tarangire, visita il ristorante del Tarangire Safari Lodge, situato su una ripida scogliera, offre viste mozzafiato sul fiume Tarangire e sulla pianura sottostante. Il ristorante offre una vasta gamma di piatti, tra cui specialità tanzaniane, come il nyama choma, un delizioso barbecue di carne, e ugali, una polenta fatta di farina di mais o miglio, un piatto di base nella cucina tanzaniana. Dopo il pasto, perché non goderti un ultimo safari al tramonto. Le luci del tramonto sulle pianure del Tarangire offrono una vista spettacolare, un perfetto addio a questa avventura tra le meraviglie selvagge della Tanzania. Concludi il tuo safari con una notte nel Tarangire Safari Lodge o in uno dei molti campi di lusso situati nel parco, sotto un cielo stellato e i suoni della natura africana a farti compagnia. La tua visita al Parco Nazionale del Tarangire sarà un degno finale per il tuo safari in Tanzania, lasciandoti con ricordi indimenticabili di avventure, panorami spettacolari e incontri ravvicinati con alcune delle creature più affascinanti del pianeta. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi? Commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ringraziamo per la visione!